a proposito del soggetto dell'infinitiva una considerazione a parte merita il pronome personale di terza persona pubblico cornelio scipione afferma a proposito del fratello lucio lucius dicit se erra visse traduzione letterale lucio dice che lui stesso ha sbagliato in questo caso nell'infinitiva abbiamo il pronome riflessivo di terza persona se in caso accusativo perché è riferito allo soggetto della principale il soggetto della principale e il soggetto dell'infinitiva coincidono il soggetto è cioè lucio lucio afferma che lui stesso ha sbagliato in questo caso quindi si usa il pronome riflessivo di terza persona in caso accusativo se perché il soggetto della principale il soggetto dell'infinitiva è lo stesso è lucius il comandante esorta ai suoi soldati a ingaggiare battaglia prelium committite milites date battaglia o soldati hostes hoc prelio profligabimus in questa battaglia hoc prelio profligabimus sconfiggeremo i nemici nella didascalia si legge infatti milites sperant se victuros esse i soldati sperano che loro stessi vinceranno quindi i soldati sperano di vincere perché qui in caso accusativo ricorre il pronome riflessivo di terza persona se come sappiamo il latino può essere usato per il singolare e per il plurale se che abbiamo tradotto con loro stessi per la stessa ragione che abbiamo visto nella situazione precedente il soggetto della principale milites è lo stesso dell'infinitiva in questo caso quindi il latino usa il pronome riflessivo di terza persona se quando quindi c'è lo stesso soggetto nella principale o reggente e nella infinitiva che cosa succede invece quando il pronome di terza persona singolare e plurale nell'infinitiva non è riferito al soggetto della principale il pedagogo dei due rampolli di publio cornellio scipione livio andronico è disperato i due fratelli litigano spesso questa volta lucius publium accusat et dicit eum errare questa volta commenta il pedagogus lucio accusa publio e afferma che lui sbaglia perché qui ricorre eum cioè l'accusativo del pronome determinativo is ea id e non se il pronome riflessivo di terza persona in caso accusativo semplice qui il soggetto della principale è diverso da quello dell'infinitiva ossia publium lucio afferma che lui quello cioè publio sbaglia quindi è lui che ha sbagliato non lucio eum si riferisce dunque a publium cioè a un soggetto diverso militibus nostris afferma il centurione fido et spero eos quam primum redituros esse confido nei nostri soldati dice il centurione e spero che torneranno quanto prima eos ossia l'accusativo plurale del pronome determinativo is ea id si riferisce a militibus nostris io spero che loro cioè i nostri soldati torneranno quanto prima il pronome determinativo eos da is ea id è usato perché il soggetto della principale io è diverso dal soggetto della dell'infinitiva in caso accusativo eos cioè i soldati sono loro che dovranno tornare prima o poi quindi usiamo le forme in caso accusativo del pronome determinativo is ea id o il dimostrativo sempre in caso accusativo il illa illud quando il soggetto della infinitiva è diverso da quello della principale